Ciao a tutti ragazzi Eh si ho iniziato adesso Voi non sapete cosa è appena successo Allora praticamente io stavo facendo un video Cioè no stavo facendo un video Mi sembrava che stavo facendo un video Ma invece non l'ho fatto Nel senso ho detto tipo Sempre ciao a tutti ragazzi Blah 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 siamo morti E non stavo Sono così tanto scemo Che non ho fatto il video Cioè a me mi sembrava se stavo registrando Ma non è vero O ne metterlo diciamo con Kristen Lui è su ShareFactory Perché ha modificato il video Con cui io non stavo registrando Così Adesso lui lo sta caricando Io devo rifare Poi sono Ah aspetta Bro parlo aspetta un attimo eh Aspetta No volevo mettere se parlo italiano Ciao 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 Sì vabbè ciao Mi vado in chat party Ok Bruno Mi sembrava se parlava Ma non parlava Ok Madosca Questa è praticamente È la terza volta Cioè la terza volta Non di fila Oppure la terza volta di fila Cioè raga ma Se voi siete youtuber Scrivete sotto i commenti Se vi sembrava che stavate registrando Però no Perché a me questa volta È successa Tre volte No Via 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 Ci sono rimasto Malissimo Quando l'ho scoperto Che non stavo Registrando Eh Infinito E oltre come infinito Oltre infinito E finito infinito Forse non l'hai capito Però è infinito Sai che numero è l'infinito, spero, no? Se non c'è questo... Ah, ok Meno male Allora No No No, però non tengo materiali, aiuto Che hacker Non spero di muovere nel pompa L'ho quasi curato e... Boom, curato Aspettate, metto questo, questo e questo, ok I pesci non me li posso mangiare Ah, no, me li posso mangiare, aspetta Ok Vai Ma l'altro? Ah, forse è quello che avevo ucciso Allora Provo a non morire Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì si erano tre partite proprio tre 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 erano io per quanto sono stupido non stavo registrando questa è la prima sfortuna del mondo hashtag sono stupido no aspetta cazomai sopra trovo degli scillini aspetta cavolo sto lagando godo no godo perché ho trovato due scildoni stavo per berlo uno però l'ho trovato un altro per boshishima de cool basta che trovo solo un medikit e sono a posto ma il nostro amico praticamente non se ne sta fregando no il nostro compagno di squadra se ne sta fregando se ne sta andando mentre io sono ancora qua vabbè io so come si taglia devi andare su spezzola clip e poi devi fare cose difficili a tagliare lo sai fare ok no che era successo mi sembrava si oh ma mi fa corso automatica no è vero l'avevo tolta aspetta ci riprovo si ah no non avevo tolta che si godo madonna raga che boja quindi raga oggi non potrò tagliare nessuna parte perché sono già stanco praticamente sono stanco anche a giocare alla play però ci gioco oh godo ma quello non teneva niente ma era bot allora cioè era proprio bot non è che è bot po' tutta la vita bot no bro non sai che sfortuna adesso 8 di legno 8 di 8 di metallo e no aspetta e 8 e 9 di mattone ok ok si Vabbè adesso è la mia famiglia, nonno. Aspetta, non sta qua sopra. Non mi? Ma dove sta andando il nostro amico? Non capisce che ho messo il punto e lui deve venire da me. Ma invece non è vero. Guardalo che si sta vedendo il mio youtuber preferito, Manu. Non c'è nessuno. E chi è? Devi dirmi il nome di quello youtuber! Perchè tu praticamente proprio non lo puoi toccare perchè... non lo devi toccare... Allora... Proprio alla sigla lo puoi mettere all'inizio del video che c'è quella canzone. Lo puoi mettere là. Se almeno ci aspetta... Puoi aspettare? Ehi! Aspetta! Aspetta! Puoi aspettarmi? Puoi aspettarmi? Alleluia! No, vabbè! Ma lui se ne scappa lo stesso! Ma che gli ha fatto di male? Oh, ma se ne scappa... Lui ha trovato anche i lanciarazzi! Poi... Oddio, bro! Questo gioca da stagione 1! Tiene la skin noob! Oddio! Perchè tiene la skin noob! Ti pensi che è Tfew? Però non è vero! Maddossa, è Tfew! Che bacia di culo! C'è un elicottero che non so dove... Ah, eccolo! Proprio... No, vabbè! Questo è un nabo, però... Non è pro, ripeto, è nabissimo! No, perchè arriva da me! Ma vieni, nabbo! Ma vieni, nabbo! Eh, forse è il copyright... Ma dove va? Dove va? Vabbè, raga, io abbandono! Quindi, raga...